Vi parlo di colore, di come si fa a scegliere il colore, che è una cosa molto importante. E quanto colore vogliamo intorno a noi che fa la differenza. Vogliamo una casa colorata, vogliamo una casa che esprima delle sensazioni forti o vogliamo una casa che ci dia una sensazione di eleganza o una sensazione di pacatezza. Ci dobbiamo sentire bene dentro il colore e per sentirci bene nel colore dobbiamo scegliere un colore che ci fa stare bene dentro. Come si fa? Si parte innanzitutto guardando delle ambientazioni sulle riviste cercando soprattutto di focalizzarci non su quanto è bella l'immagine, quanto è bello il panorama, quanto è bello l'arredamento ma quale sensazione ci genera. La seconda parte è molto importante, quella un po' più difficile, cercare di coordinare gli altri elementi della nostra casa per far sì che siano un tutt'uno, senza armonia, qualsiasi colore non va bene. Possiamo, se vogliamo dei colori intensi e non abbiamo la casa che se li può permetterle, metterle soltanto in una parte della casa. Oggi si usano molto fare una parete sola o qualche parte di parete. Questo è uno strumento utile che ci aiuta a mettere colore senza cambiare troppo la luce della stanza. È importante però partire dalle sensazioni. È una cosa che non tutti fanno, cercano qualcosa di bello, qualcosa magari di moda, qualcosa che gli piace come immagine ma si focalizzano meno sulla sensazione. Questo è il primo e più importante consiglio. Se volete saperne di più, se volete veramente trovare il colore giusto per voi, io posso darvi una mano. Scrivetemi a posta.napolitano.com Vi aspetto!